Il Covid è stato un'emergenza ospedaliera che oggi, lo dicono i numeri, è finita. Smettetela di terrorizzare l'Italia e gli italiani. Smettetela di tenere chiusi in casa gli italiani. Gli italiani vogliono vivere, lavorare, amare e sperare senza distanziamento sociale. La dichiarazione di uno stato di emergenza in questa situazione è inopportuna e illegittima. Senza emergenza non c'è lo stato di emergenza. Lei sta mentendo all'Italia e agli italiani. Lei sta dicendo bugie. Se siete gli unici in tutta Europa a prorogare lo stato di emergenza, o non hanno capito niente tutti gli altri, o siete in mala fede voi. A occhio siete in mala fede voi. E' eccezionale questa maggioranza e questo governo che non solo vuole imporre una verità che non esiste, ma pretende che tutto il popolo italiano plauda gaudente la loro verità che non esiste. Noi rappresentiamo l'Italia delle donne e degli uomini liberi. Gli italiani voteranno senza mascherina e dandosi la mano. Senza mascherina e dandosi la mano. Gli italiani voteranno senza mascherina e dandosi la mano.